Musica Tragedia sui binari, 5 operai a lavoro sulla linea Torino-Milano travolti e uccisi da un convoio nei pressi della stazione di Brandizzo forse un errore di comunicazione all'origine del disastro Morire sul lavoro è un oltraggio alla convivenza Così Mattarella che si è recato sul luogo dell'incidente aperta un'indagine per disastro ferroviario colposo e omicidio colposo plurimo Qui lo Stato ha fallito, il territorio sarà bonificato No a zone franche, lo dice Giorgia Meloni con parte del governo oggi in visita a Caivano dopo i casi di violenza sessuale nei confronti di due cugine di 10 e 12 anni Un lungo viaggio per incontrare un piccolo greggio di cristiani Francesco parte per la Mongolia pace, incontro e dialogo, i temi della visita Il mito del cavallino Nampante sbarca a Venezia La mostra del cinema va in scena il film Suenzo Ferrari fondatore della casa automobilistica più affascinante del mondo Buonasera, buonasera dal TG2000 Sgomento e sconcerto per una delle più gravi stragi sul lavoro degli ultimi tempi Cinque operai, travolti e uccisi da un treno a tutta velocità Mattarella si recca sul luogo dell'incidente Luciano Piscaia È stata una visita breve ma commossa e densa di significato Il presidente Sergio Mattarella è arrivato intorno alle 15.30 a Brandizzo Un gesto di saluto rivolto alla piccola folla che lo ha atteso Un breve dialogo con il sindaco del paese E poi, nel massimo silenzio, la deposizione di un mazzo di fiori Davanti alla stazione dove, nella notte, un treno Ha travolto una squadra di operai al lavoro, uccidendone cinque No, il presidente è rimasto toccato e sconvolto della vicenda Soprattutto anche sul numero di persone coinvolte Ci ha chiesto un po' i sopravvissuti Ringrazio il presidente ancora una volta perché la sua presenza è stata veramente significativa Il presidente Mattarella è ripartito da Brandizzo senza rilasciare dichiarazioni Ma in mattinata aveva già espresso la sua sofferenza per l'accaduto Tutti quanti, come il presidente della regione, il sindaco di Torino Che sono recati questa mattina sul luogo Come tutti i sindaci presenti, tutti i presenti Abbiamo pensato come morire sul lavoro sia un oltraggio ai valori della convivenza Con la sua presenza e le sue parole Il capo dello Stato ha dato voce al dignitoso dolore della comunità di Brandizzo Molto scossa dalla morte dei cinque operai travolti dal treno Immagini terribili che sono rimaste negli occhi di un giovane testimone Tra i primi ad accorrere sul luogo della tragedia L'inferno se posso dirlo, abbiamo visto quello che ne rimaneva dei cinque corpi E non sono cose da vedere a quest'età assolutamente Allora se il binario non era interrotto, sta gente sul binario non ci dovevano stare Vedere le persone che escono e vanno a lavorare e purtroppo non ritornano più E' una cosa che è impossibile quasi pensarla Il più giovane tra le vittime aveva 22 anni, il più anziano 52 Ancora da chiarire come sia potuto accadere un incidente così grave Federico Plotti Sfrecciava a oltre 160 km orari il treno che ha investito e ucciso 5 operai Della società Sigifer di Borgo Vercelli Che stavano lavorando sui binari all'altezza della stazione di Brandizzo Poco a nord di Torino, travolti in pieno dal convoglio lanciato a tutta velocità Per loro non c'è stato nulla da fare, salvi per miracolo altri due uomini Questa è una tragedia immane, una tragedia enorme Che colpisce tutta la comunità piemontese Parliamo di cinque persone che hanno perso la vita, tutti e cinque piemontesi E parliamo soprattutto di un fatto che è inaccettabile Perché non si può perdere la vita al lavoro A perdere la vita Giuseppe Sorvillo, 43 anni Saverio Giuseppe Lombardo, 52 Giuseppe Aversa, 49 anni Kevin Laganà, che di anni ne aveva solo 22 E Michael Zanera, 34enne, piemontese come tutti gli altri Una sorte beffarda perché da quanto si apprende dalle ferrovie dello Stato I lavori per la manutenzione di un tratto di rotaie sarebbero dovuti iniziare Solo dopo il passaggio di quel treno Qualcosa evidentemente non ha funzionato Il macchinista del locomotore che questa notte ha travolto e ucciso i cinque operai Non avrebbe saputo nulla della loro presenza lungo i binari Forse una falla nei meccanismi di avviso e comunicazione sui lavori in corso Questo è uno dei primi elementi su cui indaga la procura di Ivrea Che ha aperto un'inchiesta per disastro e omicidio colposo E che ha constatato che la velocità di percorrenza in quel preciso punto Era entro i limiti imposti Chi conduceva la motrice dunque non sarebbe stato assolutamente a conoscenza di quel cantiere E avrebbe proseguito la sua corsa ignaro della presenza di persone lungo i binari E in questa giornata funesta un uomo è morto folgorato Mentre dipingeva la facciata esterna di un capannone Di un'azienda di confetture e conserve a Castel di Sangro in provincia dell'Aquila Per perdere la vita un operaio molisano che probabilmente ha toccato i cavi elettrici Quella di Brandizzo è soltanto l'ultimo gravissimo episodio Di una lunga scea di sangue sui luoghi di lavoro Sono già oltre 400 gli incidenti mortali dall'inizio dell'anno Marino Galdiero Ancora una volta in Piemonte, 16 anni dopo la Tissen Si ripete a Brandizzo una tragedia sul lavoro Ma in Italia la sicurezza è ormai da troppo tempo E continua ad essere un nodo dolente e irrisolto Quasi 5 morti ogni due giorni Oltre 17 ogni settimana 75 ogni mese Questi dati dell'INAI sulle denunce di infortunio mortale sul lavoro Nei primi sei mesi dell'anno Che se anche in calo rispetto al 2022 Sono ancora 450 Andando indietro nel tempo è facile trovare di settimana in settimana Morti o feriti sui luoghi di lavoro Spesso non fanno rumore Come per esempio il 55enne Che oggi in provincia di Cuneo È rimasto gravemente colpito in un'azienda metalmeccanica Ma è uno stellicidio Accanto alle morti anonime ci sono le stragi Come quella dell'acciaieria Tissen di Torino Scoppia un incendio Una colata di olio bollente Prende fuoco e investe tutto Sette operai fra i 25 e i 54 anni muoiono Si denunciano le condizioni di lavoro La mancanza di misure di sicurezza adeguate Dopo una lunga vicenda giudiziaria I responsabili dell'azienda vengono condannati Sempre a causa di una scarsa manutenzione Il disastro di Viareggio Con un treno merci che deraglia le porte della stazione Dalle cisterne di gas che trasporta Si apre uno squarcio che si infiamma ed esplode Il fuoco inghiotta una piccola via di periferia Tra civili e operai perdono la vita 32 persone Ogni giorno nel nostro paese Piangiamo perdite incomprensibili di vite umane Esordidisce così un messaggio di cordoglio della CEI Affirma del Presidente Cardinal Zuppi Per la tragedia di Brandizzo Invitiamo a non assistere rassegnati A queste tragedie che si ripetono Scrive ancora il Cardinale In gioco la dignità di noi stessi Aggiunge il Presidente CEI Che continua la sicurezza nei luoghi di lavoro E frutto di tante responsabilità Sociali, economiche e politiche Che devono convergere Al servizio dei lavoratori La più grande ricchezza sono le persone Fare piena luce su quello che è successo Questo è il primo commento di Giorgia Meloni Che oggi è stata a Caivano In visita a una comunità ferita A cui ha promesso che presto L'impegno del Governo sul territorio Darà risultati tangibili Il racconto dell'inviato Fabio Bolzetta All'esterno la scritta Nessuno resti solo Perché dentro e tra questi palazzi Il buio che avvolge Caivano Racconta un'altra storia Di cui le violenze del branco Contro le due bambine e cugine Sono solo l'ultimo tassello La visita della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni Accende i riflettori Sulla piazza di spaccio Più grande d'Europa Una catena di illegalità Che soffoca ogni futuro Per le famiglie di Parco Verde E che lascia agire Raccontano le denunce Il branco e gli orchi Ecco perché Accompagnata da tre ministri Interno Istruzione Sport Ha subito accolto L'invito del parroco Don Maurizio Patriciello A recarsi in un luogo dimenticato Affrontando piano piano Ogni singolo Tema che va affrontato Perché Si risolve solo Se si lavora a 360 gradi Si risolve solamente Se si lavora Diciamo Affrontando contemporaneamente Tutte le problematiche Io sono un cristiano E La mia parrocchia È dedicata a San Paolo San Paolo dice Che noi dobbiamo sperare Contro speranza Cioè quando tutto va male E noi dobbiamo continuare A sperare E a osare pure Per cui io ho osato E grazie a Dio Insomma c'è stata una risposta Chiesa è stato Ancora una volta insieme Ogni giorno di più Coniugare La verità del Vangelo Con la vita Dell'umanità Qualche sparuta contestazione Corrisponde la maggioranza Che invoca la Premier In una Caivano blindata Ieri Attraverso i social Sono state scagliate Minacce Contro la Presidente del Consiglio La riattivazione del centro sportivo Il potenzialmento di assistenti sociali Scuola e sicurezza Gli impegni presi dalla Premier Che alla scuola di Parco Verde Ha tenuto il Comitato Per l'Ordine e la Sicurezza Trafitta la nube di silenzio Caivano cerca Di non restare più sola Speriamo che può nascere Un fiore qua nel Parco Verde Questo quartiere Abbandonato dallo Stato Dalle istituzioni E dai servizi sociali Sicuramente Qui c'è un grandissimo Problema culturale Che va affrontato E per questo Ne abbiamo bisogno Di un grande supporto Da un punto di vista sociale In primis In modo che le persone Possano imparare A fidarsi Dello Stato Gli sviluppi Delle indagini Sull'episodio Di Caivano E su quello Altrettanto grave Di Palermo Mentre un altro caso Di violenza A danno di una giovane Si registra A Milano Elena Seno Sono in mano Ai periti Incaricati Dalla procura Dei minori E da quella Di Napoli Nord I cellulari Sequestrati Agli aggressori Dai carabinieri Dopo la denuncia Presentata Inizio agosto Degli abusi Ai danni Delle due Cuginette Di 10 e 12 anni Gli esperti Avranno un mese Di tempo Per decifrare Il contenuto Soprattutto chat e video Di questi strumenti Per far luce Sull'orrore Subito Dalle due vittime Abusi E minacce Che sarebbero Proseguiti per mesi Da parte del gruppo Di ragazzi Uno solo e maggiorenne Violenze Che sarebbero avvenute In un capannone Sportivo abbandonato Ma anche in altri luoghi Più visibili Ora le due bambine Si trovano In una casa famiglia Lontano dal parco verde Di Caivano Anche la 19enne Violentata a luglio Da un gruppo Di sette ragazzi A Palermo E' stata condotta In una struttura protetta Una scelta arrivata Dopo il peso Degli attacchi Ricevuti dalla giovane Sui social Intanto ieri E' stata respinta L'istanza di scarcerazione Presentata da uno Degli indagati Mentre emerge Che la 19enne Avrebbe subito Anche un tentativo Di abuso Un mese prima Da parte di due persone Che le avevano offerto Un passaggio a casa E c'è un nuovo caso Di stupro Di gruppo Subito da una minorenne Risale a un anno fa Sarebbe avvenuto In una struttura Dismessa Nel quartiere Bonola A Milano E per questa violenza E' stato arrestato A Rimini Un maggiorenne egiziano Un altro è ricercato E risulta espulso Dall'Italia Anche un terzo indagato Maggiorenne Era già stato espulso Mentre di due minori Si sta occupando La relativa procura Proprio in questi minuti Papa Francesco Sta partendo Dall'aeroporto Di Fiumicino Alla volta Della Mongolia Si tratta Del suo 43esimo Viaggio apostolico Internazionale Francesco Si tratterrà Nel paese asiatico Fino al 4 settembre Il volo Ha una durata Prevista Di 10 ore L'atterraggio All'aeroporto Gengis Khan Della capitale Ulaanbaatar Quando in Italia Saranno Le 4 del mattino E ora vediamo Come la Mongolia E il piccolo greggio Della comunità cattolica Poche migliaia Di fedeli in tutto Si stanno preparando Ad accogliere Papa Francesco Pierluigi Vito A Ulaanbaatar Si ultimano i preparativi Si montano manifesti E si provano Canti di benvenuto Per Francesco E la Mongolia La meta del 43esimo Viaggio apostolico Di Papa Bergoglio Che dal 1 al 4 settembre Incontrerà Una delle più piccole Comunità di cattolici Nel mondo Sono in totale Circa 1500 In tutto il paese Vasto 5 volte L'Italia E con una popolazione Di poco più di 3 milioni Di abitanti Per la metà Radunata nella capitale A oltre 400 chilometri Da qui Ad Arvajker Ogni mattina Per Lima Sparge una tazza Di latte e tè In omaggio al cielo Ma terminato il rituale Si ferma Per una breve preghiera cristiana Prima di farsi Il segno della croce È una delle nostre Tradizioni secolari Io la offro Al nostro Dio E prego Senza perdere La nostra cultura Insegno anche Ai miei figli A preservare Questa preziosa eredità Per Lima Faceva parte Del consiglio regionale Durante l'era comunista Si è convertita Al cattolicesimo Circa 18 anni fa Dopo la fondazione Di una missione cattolica A queste latitudini L'annuncio del Vangelo Arrivò nel settimo secolo Ma dal 1400 Per il cambio di dinastia In Cina E per l'espansione Islamica Da sud ovest Il cristianesimo Per circa tre secoli Scomparve Prima la chiesa ortodossa E poi la cattolica Riuscirono a impiantare Missioni in Mongolia Che poterono operare Fino al 1924 Quando prese il potere Il partito comunista Dal 92 Finalmente tornata Nel paese La libertà religiosa E l'evangelizzazione È ripartita All'inizio era difficile Andare a messa da sola Ricorda Perlima Poi però I miei figli E i miei nipoti Hanno cominciato a seguirmi E infine anche mio marito Ora sono quattro anni Che ha ricevuto il battesimo È un piccolo greggio Di 55 anni Ma è quello che attende Il vescovo di Roma E non vede l'ora Di salutarlo Col suo sorriso E questo pomeriggio Prima di lasciare casa Santa Marta Per l'aeroporto Di Fiumicino Papa Francesco Ha salutato 12 ragazzi Di varie nazionalità Ospiti del dormitorio Dono di Misericordia I ragazzi Nei giorni scorsi Hanno aiutato Il di Castero Per la Carità Nei preparativi Per l'invio Di viveri In Ucraina E veniamo proprio Alla guerra in Ucraina Sembra funzionare L'offensiva di droni Anche sul territorio russo Delle forze di Kiev E si riapre La trattativa con Mosca Per l'uscita Del grano ucraino Un'intesa Che potrebbe essere firmata Da Putin Ai primi di settembre Massimiliano Cocchi Lentamente Un villaggio dopo l'altro Le truppe ucraine Continuano ad avanzare Sul fronte meridionale In particolare Nella zona di Robotin L'obiettivo è interrompere Le linee di approvvigionamento Dei russi Verso la Crimea E se i progressi a sud Sono stati confermati Alla CNN Del segretario della Nato Stoltenberg Ad est La situazione È più difficile I russi Hanno ammassato Le proprie truppe Nella zona di Kupiansk E continuano a tenere Il nemico Sotto il fuoco Dei droni Il comando militare Di Mosca Sostiene di aver respinto Nelle ultime ore Diversi contrattacchi Delle truppe ucraine Sbaragliando Due plotoni nemici Grazie Proprio Alla superiorità aerea Gli ucraini Però sarebbero riusciti A produrre Improprio Le armi A lungo raggio Quelle che da tempo Chiedevano Senza successo Agli alleati Il presidente Zelensky Ha scritto infatti Su Telegram Che l'esercito È riuscito a centrare Un obiettivo A 700 chilometri Di distanza Si tratta probabilmente Dell'aeroporto militare Russo di Pskov Colpito ieri E mentre a Mitischi Nei pressi di Mosca Si sono svolti I funerali Di Dimitri Utkin Il comandante militare Del gruppo Wagner Morto nello schianto aereo Di otto giorni fa In rete È comparso Un nuovo video In cui Eugenie Pregoshin Qualche giorno Prima di morire E dall'Africa Scherza dicendo Voglio rassicurare Coloro che pensano Io sia morto Che va tutto bene Oggi a Mosca È arrivato Il ministro degli esteri Turco Akam Fidan Con il difficile compito Di preparare Con il suo omologo Russo Lavrov L'intesa Per un nuovo accordo Sul grano Intesa Alla quale Poi Vladimir Putin Dovrebbe dare via libera Il 4 settembre Quando a Socia In Russia Incontrerà Il presidente turco Erdogan Ci trasferiamo in Sudafrica Per riferirvi Di un drammatico incendio Un intero edificio Nella città di Johannesburg Ha preso fuoco Oltre 70 Le vittime Fausto Nicastro Almeno 74 persone Di cui 12 bambini Sono morte In un incendio Che questa notte È scoppiato In una palazzina Di 5 piani A Johannesburg In Sudafrica Il bilancio Ancora provvisorio Conta anche decine Di feriti Traustionati E intossicati Secondo le prime testimonianze Le fiamme Si sarebbero scatenate In seguito a un blackout Nelle prime ore Di questa mattina Abbiamo iniziato A evacuare Le persone Che erano all'interno E a condurre Le nostre operazioni Antincendio Il numero Delle persone Recuperate È ancora provvisorio E potrebbe aumentare Dice il portavoce Dei servizi Di gestione Dell'emergenza Della città Lo stabile Abbandonato E dichiarato inagibile Era occupato Da alcune bande criminali Che poi concedevano Illegalmente in affitto Circa 200 persone Prevalentemente Immigrati E indigenti Sono scappato E ho lasciato tutto Ma ho perso mia sorella Mio suocere È riuscito a rompere La finestra E a lanciare La mia nipotina Che è stata presa Al volo Dalla gente in strada Dice quest'uomo Scampato a rogo Il presidente Sudafricano Ramaposa Ha definito il rogo Una grande tragedia Si tratta infatti Del più grave incendio Della storia della città E secondo i media locali Gli allacciamenti abusivi Che proliferano Nello stabile Sarebbero la causa Dei continui blackout elettrici E molto probabilmente Anche dell'incendio La scala antincendio Era chiusa Dice quest'altro testimone Molta gente è morta A causa del fumo Perché è rimasta bloccata Dai cancelli chiusi Stiamo in Africa Stiamo in Africa Un continente Che sta vivendo Una stagione tumultuosa Non solo i colpi di Stato In Gabon e Niger Ma oggi giunge notizia Di una manifestazione In Congo Contro l'ONU In cui sarebbero morte 48 persone De Remigis Di fronte ai sommovimenti Da un altro presidente Supportato da Parigi L'Occidente È davanti al fatto compiuto La stabilità A tempo indeterminato Nelle ex colonie francesi È stata bruscamente Interrotta dai militari Urge dare segnali Senza provocare È di Europa presente Ma che non dia l'idea Ad essere una nuova colonizzatrice Parla oggi Il ministro degli esteri Tajani Che al vertice Dei capi diplomazia UE In corso a Toledo In Spagna Annuncia lavori Per una soluzione Diplomatica Sia in Niger Sia in Gabon Dobbiamo trovare Una soluzione diplomatica Che non appaia Una situazione Antica Lavori Non ultimatum Tajani Riferisce che al tavolo Sono state apprezzate Le proposte Di una mediazione Algerina Secondo cui Un intervento militare Creerebbe Nuove complicazioni E aumenterebbe I flussi migratori L'UE respinge Qualsiasi presa di potere Con la forza In Gabon Taglia corto L'alto rappresentante Per la politica estera Borrell L'effetto domino Preoccupa profondamente Anche gli Stati Uniti Pure Londra Condanna il colpo di Stato In Gabon Riconoscendo però Che le elezioni Non erano state limpide Agitazioni Si registrano anche in Congo Almeno 48 civili uccisi Negli scontri a Goma 168 gli arresti Tra cui il guru Bisimwa Leader di una setta animista Che aveva preso di mira I soldati delle Nazioni Unite Accusandoli di inefficacia Nella lotta Contro i gruppi armati Shabbar Abbas Il padre di Saman Arriverà domani Nelle prime ore Della mattina A Roma Lo comunicano I carabinieri Reggio Emilia In una nota È stato quindi respinto L'estremo tentativo Del suo legale Davanti all'alta corte Di Islamabad Dopo il parere Favorevole Del governo All'estradizione Nelle immagini Che vedete L'uomo Viene condotto Sull'aereo Che lo sta portando In Italia Per rispondere All'accusa Di essere uno Mai oltre 18 ore Tra l'uomo Che si è asserraiato Armato Nella propria Abitazione E i carabinieri L'ex ufficiale Di complemento Aveva dato segni Di squilibrio mentale Le forze dell'ordine Dovevano notificargli Un divieto Di detenzione Di alcuni fucili Nella via È arrivato Anche un reparto Del GIS Dei carabinieri Per un possibile Intervento Di forza Da domani Chi ritira la pensione Troverà qualche aumento Per effetto Delle rivalutazioni Sentiamo Giuseppe Caporasso Novità per le pensioni Nel mese di settembre Domani Primo giorno del mese Si pagano Come sempre Direttamente Sull'accredito Sul conto corrente Alle poste Secondo il calendario Prestabilito Che vedrà Domani ritirare i soldi All'ufficio postale I pensionati Con il cognome Che inizia Dalla lettera A Alla lettera C Tutti i pensionati In base a questo calendario Entro martedì prossimo Riceveranno L'assegno previdenziale Agli uffici postali Ma vediamo Quali sono le novità Sul cedolino Della pensione Nel mese di settembre Che è possibile consultare Attraverso il sito Dell'Inps C'è un aumento Per tutti coloro Che ricevono la pensione minima La cui soglia ora Di 600 euro In base alla legge Di bilancio 2023 A cui bisognerà Aggiungere una rivalutazione Che varia dal 6,4% Per i pensionati Con almeno 75 anni D'età O dell'1,5% Per il soggetto Con un assegno minimo Con meno di 75 anni D'età Non bisognerà fare Alcuna domanda All'Inps Perché gli aumenti Saranno erogati In maniera automatica Dall'istituto di previdenza Una pensione Quella di settembre Che potrebbe essere Ancora più corposa Per tutti E non solo Per quelli con l'assegno minimo Si potrebbero avere Sul cedolino Gli eventuali accrediti Per il conguaglio Del 730 In pratica Rimborso di parte Delle spese mediche E degli oneri deducibili Dichiarati nel modello 730 Non solo notizie positive Ma anche qualche possibile Trattenuta Legata sostanzialmente Alle addizionali regionali E comunali Presenti Nell'assegno previdenziale In ogni caso Per coloro Che desiderano sapere Con qualche giorno di anticipo L'importo Della propria pensione È possibile consultare Il simulatore IMS Sul sito dell'istituto Ed inserendo i propri dati personali Avere l'importo netto Del proprio assegno previdenziale In base Alle novità Introdotte Si torna a parlare I covid Lema È previsto Di attacchi di un virus Ormai innocuo Dal punto di vista Della mortalità Fatta eccezione Per i pazienti fragili Per i quali Possono essere letali Anche i virus Influenzali Più diffusi Messo da parte Qualsiasi allarmismo Quindi L'esame del report mensile Mette sì in evidenza Un rialzo dei contagi Ma indica anche Che non c'è pare aumento Né dei ricoveri Né dei casi gravi O mortali I morti in particolare Sono 0,76 Ogni milione di abitanti Mentre i dati Istat Sulla mortalità Per qualunque causa Nel mese di giugno 2023 Confermano Il venir meno Dell'effetto covid Sui tassi di mortalità Del nostro paese Rientrati nelle medie Pre-pandemiche Non si arresta però Il monitoraggio Delle nuove varianti Che per ora Restano sempre legate A Omicron Ben conosciuta Dall'2021 Il coronavirus Dunque per sopravvivere Ha trovato il modo Di adattarsi All'organismo umano Trasformandosi Da arma letale In un virus Che si ferma Alle vie aeree superiori E provoca solo Mal di gola Febbre e raffreddore Nonostante questo Avvisano però Agli scienziati E' necessario ricordare Che può costituire Un rischio Per anziani E persone debilitate Che dovrebbero Comunque vaccinarsi Con i nuovi vaccini Adattati alle ultime Varianti di Omicron E' attesa anche In vista dell'autunno Una nuova circolare Del Ministero della Salute Che disciplinerà L'esecuzione Dei tamponi Dei pazienti In ingresso In ospedale Nei pronto soccorso Che varrebbero effettuati Solo ai sintomatici E' in corso di svolgimento Il sorteggio Per i gironi Di Champions Quattro le squadre italiane Che sono interessate Da questo sorteggio Per ora La Lazio Ha pescato Dall'urna Gli olandesi Del Feyenoord E gli spagnoli Dell'Atletico Madrid Già composto Il girone Del Milan Molto difficile Perché la squadra Di Pioli Affronterà Il Paris Saint Germain Il Borussia Dortmund E il Newcastle Per l'Inter Invece I portoghesi Del Benfica Il Salisburgo E la Stella Rossa Belgrado Napoli Campione d'Italia Incontrerà Il Real Madrid I portoghesi Del Braga E l'Union Berlin Si parla di sport Anche alla mostra Del cinema di Venezia Oggi in cartellone Infatti Il Biopic Dedicato al grande Enzo Ferrari Fabio Falsone Rombano i motori E grazie a un permesso speciale Del sindacato degli attori A Venezia arrivano Due star internazionali Patrick Dempsey E Adam Driver Protagonista di Ferrari Il nuovo film Di Michael Mann L'acclamato E raffinato regista Di collateral Hit Miami Vice Un biopic Come si dice In gergo Una biografia Dedicata al nostro Enzo Ferrari Che vede nel cast Anche Penelope Cruz Ambientata nel mondo Delle corse automobilistiche Degli anni 50 Un uomo Come il suo sogno Tra drammi e familiari Tra cui la perdita di un figlio E la voglia disperata Di vincere E di farcela Con l'idea di una straordinaria Gara di velocità La mille miglia Tu ami i cani vero? Più di quanto ami La tua famiglia Esatto Ma oggi è la volta In concorso anche Di Luke e Besson Il visionario Regista di Nikita E Leon Con Dogman La storia Che promette Di fare discutere Magari di piacere Anche alla giuria Di un bambino Cresciuto in una famiglia Violenta E sopravvissuto Grazie ai suoi cani Un reduce Un danneggiato Che da adulto Metterà in atto Una terribile vendetta Io mi sono adattato E mentre Pablo Larraine Terzo regista In concorso Con il Conde Racconta Un Pinochet Trasformato In vampiro Domani è la volta Sempre in concorso Di Saverio Costanzo Con il suo Finalmente l'alba La storia Di una giovane Di una famiglia Modestissima Che nella Roma Della Hollywood Sul Tevere Negli anni 50 Finisce per caso Su un set E vedrà Nel corso Di una notte La sua vita Totalmente cambiare Facciamo ora Una breve pausa Tra poco Torniamo Sulla nostra notizia D'apertura Brandizzo Dove la linea Ferroviaria Interessata Dalla tragedia Di questa notte È stata riattivata E riaperta Al traffico Con questo è tutto Vi lascio al meteo E alla diretta Della messa Prossimo appuntamento Con la nostra informazione Alle 20 e 30 Grazie per essere stati con noi Arrivederci Grazie per essere